Quanto guadagni all'Inter? 130 milioni di lire al mese. Che lavoro fai oggi per vivere? Oggi ho lasciato il panificio di questi miei amici a Bobbio. Quando sei dentro, lavorare nel panificio è bellissimo. C'è un problema che tu stravolgi la tua vita, ti alzi a mezzanotte e finisci di lavorare a sette e mezza e non riesci ad andare a letto. Dormi a tratti durante la giornata, quindi è terribile. Per come sono fatto io adesso, la mia libidine è alle cinque e mezza si finisce di lavorare o alle dieci stare a casa. A cinquantaquattro sarò in pensione, però mi mancano due anni diversamente per raggiungere la mia cifra. Io avrò una pensione che sarà di 2200 euro. Perché devo versare altri due anni che mancavano da calciatore con un lavoro normale? Io ho versato quasi 4 milioni e 800 milioni allo Stato. Quest'estate andrà invece nelle montagne. Vado su, mi faccio la mia legna, il poco indispensabile, per poi poterlo bruciare per casa oppure venderla.